Vediamo un esempio di calcolo in un circuito RL serie. Supponiamo che il generatore abbia valore efficace 10 volt, che il resistore abbia resistenza R uguale 10 ohm e che l'induttore abbia induttanza di valore 5 mH a una frequenza di 200 Hz. Ovviamente la frequenza è quella dell'onda sinusoidale del generatore V. Vediamo in queste condizioni i risultati che otteniamo. Intanto calcoliamo la reattanza induttiva X con L come prodotto 2πF per L, quindi 2π per la frequenza a 200 per l'induttanza pari a 5 mH, quindi 5 per 10 alla meno 3. se sviluppiamo i calcoli otteniamo un valore di 6,28 ohm approssimato ovviamente. Calcoliamo adesso l'impedenza della serie data dalla somma di R più JX con L, reattanza induttiva, quindi avremo 10 più J6,28 ohm di impedenza come espressione algebrica, quindi parte reale più parte immaginaria. Se la trasformiamo in modulo e fase, quindi calcoliamo la radice quadrata della somma dei quadrati di parte reale 10 al quadrato più parte immaginaria 6,28 al quadrato e come fase l'arco tangente della parte immaginaria diviso la parte reale, quindi arco tangente di 6,28 diviso 10, otteniamo un'impedenza avente modulo pari a 11,81 ohm e fase, angolo caratteristico, 32 gradi. E questa è l'impedenza della serie. Andiamo a rappresentarla rapidamente sul piano di Gauss, reale immaginario, quindi abbiamo una parte reale pari a 10 ohm resistenza, una parte immaginaria pari a una reattanza da 6,28 ohm, l'impedenza risulta essere quindi individuata da questo segmento con angolo caratteristico pari a 32 gradi, l'angolo caratteristico dell'impedenza e modulo, abbiamo detto, 11,81 ohm. calcoliamo adesso la corrente nel circuito con la legge di ohm generalizzata V fratto Z ovviamente Z vettoriale quindi abbiamo 10 fase 90 gradi supponiamo che la tensione abbia questa fase l'abbiamo scelta a piacere e Z abbia, come abbiamo calcolato questa espressione, 11,81 angolo caratteristico 32 gradi quindi abbiamo il rapporto dei moduli 10 diviso 11,81 è la differenza delle fasi 90 meno 32 gradi vi ricordo che la fase FI V di 90 gradi l'abbiamo scelta a piacere avendo tra i dati soltanto il valore efficace della tensione sviluppando i calcoli abbiamo quindi la corrente di valore efficace 0,85 A con fase 58 gradi rappresentiamo sul diagramma vettoriale queste grandezze stendiamolo quindi siamo sul primo quadrante parte reale e parte immaginaria rappresentiamo la tensione V che abbiamo detto scegliamo a fase 90 gradi l'abbiamo scelta a piacere perché conosciamo soltanto il valore efficace della tensione quindi in questi casi possiamo decidere una fase a piacere per la grandezza la prendiamo 90 gradi in modo tale che la corrente sapendo che è in ritardo sulla tensione vada a trovarsi nel primo quadrante in questo caso la rappresentiamo qui con un angolo una sua fase FI con I pari abbiamo detto a 58 gradi quindi l'angolo 58 gradi per la corrente la fase della corrente ovviamente l'angolo 90 gradi per la tensione lo sfasamento fra tensione e corrente corrisponde sappiamo all'angolo caratteristico dell'impedenza quindi sarà proprio uguale ai 32 gradi che abbiamo determinato come angolo caratteristico dell'impedenza quindi andremo adesso a individuare le tensioni ai Kpdr e ai Kpdl sapendo che la tensione ai Kpdr è in fase con la corrente I e la tensione ai Kpdl è spasata di 90 gradi in anticipo rispetto alla corrente quindi la VL si troverà in questa direttrice la VR in questa la loro somma vettoriale quindi la composizione di due vettori VR e VL è uguale alla tensione V del generatore quindi si forma l'angolo rettangolo con cateti VR e VL VR in fase con la corrente VL sfasata di 90 gradi in anticipo rispetto alla corrente quindi avremo che la VL adesso diamone una rappresentazione analitica è data quindi da JXL che sarebbe l'impedenza dell'induttore per la corrente che la attraversa quindi sarà 6,28 A fase scusate 6,28 Ohm angolo caratteristico 90 gradi per la corrente 0,85 A fase 58 gradi quindi la tensione VL abbiamo il prodotto dei moduli la somma delle fasi quindi il prodotto 6,28 A per 0,85 mi da 5,34 volt con una fase di 90 gradi più 58 quindi la somma dei due angoli quindi in definitiva la tensione VL ha valore efficace 5,34 volt e fase 148 gradi ed è quella appunto rappresentata sul diagramma dove l'angolo 148 gradi è quello che quel vettore VL forma con l'asse dei reali quindi quest'angolo qui la fase del vettore VL è uguale a 148 gradi la tensione ai capi del resistore invece in serie cioè scusate in fase con la corrente quindi è data dal prodotto 10 Ohm scriviamo fase 0 per completezza anche se non sarebbe necessario moltiplicato per il vettore della corrente 0,85 A fase 58 quindi prodotto dei moduli abbiamo 8,5 volt con fase 58 gradi in fase con la corrente ed è rappresentato dal vettore sul diagramma e questa è l'angolo 58 gradi di VR di Grazie a tutti.